Bene carissimi amici, una buona serata a tutti voi, ben ritrovati nel nostro appuntamento con suito di analisi e estrazione per giovedì 27 aprile. Ebbene, in questo quadro estrazionale notiamo ancora delle belle situazioni, notiamo su Bari l'89 e l'1 di somma 90, quindi un 90 che vi annuncio ritornerà sulla ruota di Bari a breve ripetizione, quindi state molto attenti. L'89 stesso e l'1 stesso già da sole annunciano il 90. Poi abbiamo la cadenza 9 in terza, unita all'89 di cadenza 9, distanza 10, anche questa annuncia il 90. E poi la somma 90, 89.1 e al centro di questa somma abbiamo il 79, quindi una bellissima situazione per il 90. 89 che si ripete anche a Cagliari, quindi Cagliari che attende questo 90, le ruote del mio 90 segreto rimangono sempre quelle, Cagliari, Firenze e Roma fino alla prima estrazione di maggio compresa, quindi attenzione. E questo 89 con il 60 altri grandi segnali per il 90. Firenze, gemello in terza posizione, dice sì al 90, accompagnato dalla spia 39 e la distanza 2, 40-42. Quindi Firenze e Roma, grande conferma di 90. Vedremo le estrazioni di sabato, quello che succederà di sabato 29. La ruota di Roma porta il 20, che è anche una spia del 90, e la figura 9, 54 in terza posizione. Quindi abbiamo in diagonale 39 e 54, quindi abbiamo figura 9, cadenza 9, Firenze-Roma. E quindi queste due ruote che rimangono confermatissime per il 90. Il doppio gemello 22 e 11, Firenze-Roma in posizioni consecutive. E quindi ancora le mie tre ruote che ancora vengono confermate dai segnali del quadro estrazionale. A seguire Bari, che potrebbe andare in grande ripetizione, come anche la Nazionale, che porta il 9 in terza posizione questa sera. Grande segnale per il 90, l'85. E questo bellissimo ambovertibile 53-35. Palermo, che dovrebbe portare questo 90, riprendere questa frequenza. Abbiamo l'85 a Palermo, che lo annuncia, 36 di figura 9. E quindi anche qui ancora bei segnali. L'1 a Torino, anche molto bello. Quindi in esotopia anche con Bari. Questo numeretto 1. Venezia porta un bel vertibile di figura 9, 54-45. Quindi Milano-Venezia è anche una bella coppia di ruote. Quindi il 20 di Milano è anche un bel segnalatore. Quindi si annuncia anche un finale del mese di aprile, l'inizio del mese di maggio. Secondo me è molto caldo per il 90. Avete visto come aprile ha riportato una grande frequenza. Ma questa è una cosa che già vi dico, già in diverse analisi. Avevo già annunciato che il 90 riprendeva frequenza. E così è stato. Vi ho dato un altro metodo gratuito. Chi non l'ha preso mi contatti via WhatsApp. 348 75 47 715 su Bari. Dove abbiamo un'unica ambata e un'unica terzina. Calcolo undicesima mensile. Abbiamo in gioco ancora il metodo calcolo terza mensile. Quello che già vi ho regalato su Bari. Vediamo se ci andranno a dare dei buoni risultati. Vediamo cosa c'è ancora da dire. Doppio gemello unito 22 33 Firenze e Genova. Bella formazione. Anche su Genova abbiamo l'81 di figura 9. e l'85. Quindi ci sono segnali di 90 dappertutto. Quindi stiamo molto attenti. Distanza 2 su Palermo 83 85. L'81 proprio sulle ruote diametrali. Genova Torino. Quindi di figura 9 81 81. Vediamo se c'è ancora qualcos'altro. Chiaramente rimane tutto in gioco. Chi fosse interessato i miei metodi completi. Sempre validi. Può contattarmi sempre via WhatsApp. Le previsioni di modalità vincita e venuta. Stessa cosa. Quindi mi contatti via WhatsApp. È chiaro che la costanza e la fiducia ci porteranno sempre ai risultati. Questo lo dico sempre. Quindi mi raccomando sempre a seguire. mese per mese le previsioni e i metodi. Anche e soprattutto quando c'è l'esito negativo. Vediamo ancora qualcos'altro. Se possiamo dire qualcos'altro. Vediamo un po'. Se c'è qualche altra cosa interessante. Bella questa cadenza 7 su Cagliari. 17,77. Il doppio 89 Bari Cagliari. Conferma un grande 90. State attenti a questa coppia di ruote. Perché è molto molto potente. E lo stesso 89 si ripete a Napoli. Che è la diametrale di Bari. Quindi anche qui. Molta attenzione. Quindi vedremo sicuramente un grande 90 sortire su più ruote e in più estrazioni. Abbiamo un triangolo di cadenza 5 Venezia nazionale. 45, 35, 85. Anche molto interessante. Poi vediamo ancora un po' qualcosa. Vediamo se c'è qualche situazione particolare. che è sempre di no. Quindi queste sono un po' le situazioni più importanti di questo quadestrazionale. Quindi vedremo nell'estrazione di sabato 29 cosa succederà. Se arriverà questo 90. Se arriverà magari su più ruote. Vedremo un po'. Perché comunque i quadestrazionali stanno parlando molto chiaro. Quindi vedremo un po' cosa succederà. Ma già nello scorso quale estrazionale vi ho fatto vedere come c'era la presenza di tanti numeretti. Guardate poi l'1 sortito su Milano-Roma. E in questa estrazione lo vediamo sortire su Bari. Lo vediamo sortire su Torino. Quindi questi sono tutti segnali. L'1 annuncia il 90. Segnalatore del 90. Ma tanti numeretti. Anche la scorsa estrazione abbiamo notato delle bellissime situazioni. Quindi state molto attenti perché qui andremo a vincere alla grande. Per adesso saluto a tutti. Mister Sbancolotto.